Ciao ragazzi, ciao ragazze, un pensierino veloce veloce per dire anche che domani pomeriggio, domani sera, verso le 11 ore in Italia, sono ospite in un canale di un ragazzo bianconero, molto seguito, tantissimi giovani lo seguono, sarò ospite dopo le 11 di sera, non vi dico il nome sarà una sorpresa e poi un'altra cosa, oggi è uscita tutta un'intervista del signor Sabatini, veramente mi ha quasi commosso perché mi ritrovo in tutto e per tutto in quello che dice questo uomo, secondo me puro, genuino e purtroppo ha pagato sulla sua pelle tutto lo stress che ha preso, si aspettava molto di più dal sunning, dalla società e questo mi fa, mi rende molto orgoglioso delle mie idee che porto avanti da circa due anni, da quando ho cominciato a aprire questo canale su Facebook, canale su YouTube e sono proprio contento e poi solo una postilla per dire due piccole cose che mi sfuggono e le posso dire anche in maniera abbastanza comica ma vera, cioè ricevo delle offese dai tifosi bianconeri perché sostengo da sempre che la Juventus, la squadra del re, i re in Italia non ci sono ma c'è il re che comanda tutta l'Italia che è il produttore di automobili, no? E' solo come se fossero dei re, loro hanno il controllo di tutto e si offendono per questo. Poi si offendono i tifosi dell'Inter perché dico che in otto anni abbiamo preso dalla Juventus dai 250 ai 270 punti, no? E si offendono anche loro. Dopo vengo, penso, guardo le ultime campagne acquisti e mi accorgo che tutte le squadre che dovrebbero andare a dare fastidio alla Juventus, ogni anno i pezzi migliori li vendono dalla Juventus, no? Fateci caso, hanno preso Higuain dal Napoli, Pjanic dalla Roma, Cancelo dall'Inter, cioè ragazzi i migliori elementi delle proprie squadre, no? Higuain dal Napoli era il migliore. Cancelo l'anno scorso il girone di ritorno fece faville, no? L'Inter alzò il livello del gioco, grazie a lui. E se dici queste cose si offendono sia i tifosi della Juve che i tifosi dell'Inter. Ma è proprio vero che tifoso è una brutta parola ragazzi perché da tifo, tifo è brutto, è una cosa, è una parola brutta. Cercate di essere più tranquilli, andate a fare uno sport che vi possa scaricare, non vedete solo calcio perché a vedere solo calcio in televisione non va bene, bisogna muoversi, bisogna scaricare. Qui in Canada al sabato vanno a lanciare la gente super stressata, sapete cosa fa? Va a prendere le asce e le va, invece di giocare a razzetto, buttano le asce su un legno, no? È fantastico perché ci sono dei momenti che c'è come un cerchio con i punti e l'ascia va dentro nel legno e tu quando vai a colpire il 100 ti rilassi. Ecco, questi tifosi avrebbero davvero bisogno di andare a rilassarsi un po' o fare delle combat, delle finte guerre giù nelle campagne, no? Tipo air combat. Ok ragazzi? Perché non si può andare avanti così che io non posso parlare che vi offendete. Ma la verità non deve offendere, anzi la verità va detta ogni tanto, in una maniera simpatica. Ok ragazzi? Ciao, vi lascio e vi auguro a tutti un bellissimo weekend. Domani sera alle 11 sul mio canale di YouTube e vi dirò anche su domani, ve lo dico, da chi andrò. Ciao!